La pescata del primo settembre è stata particolare, un po' perché è il luogo dove ho imparato 14 anni fa a pescare e un po' perché è l'ultima dell'anno nella mia ostune. Nei giorni precedenti mi ero concentrato sulle orate, purtroppo però ho incontrato soltanto esemplari di riccola taglia. Tu arriverai, se no, a mezzo chilo. Cresci forte e torna quando sarai più grande. Non sono però mancati incontri interessanti, come questa razza o come questo branco di piccoli pesci che vive in simbiosi con la medusa per sfuggire dai predatori. Ma oggi, primo settembre, ho deciso di rimanere nel basso fondo. La tecnica utilizzata è quella della pesca alla spicola, lancio del sasso, piccoli e guati che si concludono quasi sempre con un aspetto. Ma oggi non girano spigole, e il motivo lo state probabilmente per scoprire. I Serra sono in caccia. Un grosso esemplare viene immediatamente instacolato, eppure dopo qualche secondo riesce a strapparsi. Sinceramente mi rapazzo di averlo colpito bene. Provo sempre una certa tristezza quando scappano animali feriti, anche quando si tratta di una specie invasiva come il pesce Serra. Questa volta il tiro era una storia. Gli risparmio inutili sofferenze finendolo col pugnale, ed è già ora di uscire. Dopo qualche minuto esce anche il mio caro amico Lorenzo, con un altro bel Serra. Fatto ricordo e pronti alla prossima avventura. Gli risparmio inutili sofferenze finendolo col pugnale. Gli risparmio inutili, San official del Gli risparmio inutili. Gli risparmio inutili. Svä ridigling. Grazie.